questo brano che a me piace particolarmente adesso lo faccio partire con non una radiolina tipo questa ma con questo amplificatore da 1000 più 1000 watt e questi bestioni qua piazzati di fronte il volume è solamente meno del 50 per cento i bassi non sono al massimo sono al 70 per cento e 1 2 3 vai la paura in questo momento mi stanno sentendo penso a minimo 500 metri add un po' di più a un po' di più 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 che bestia che bestia un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più